www.feyyaz.com Un'usuta' era barrica Luigi non aveva mai matto quando era potente Ma questo è barrica potente Aspettate Ma come? Potremmo tirare a rete? Pidiamo tempo Stiamo a guardare Tony dice buono Rocco E' per l'affare Nicola sape fare La guerra è un'altra cosa Luciano sta a cercare i crepi Gid Finito Perché non parli? Tu dimmi se sei un amico Che signale? Hai presente la scuola elementare Ed è abbandonato E allora? Di fronte C'è una casa è barrica Non abbiamo dato un bastardo E dalla finestra non ci spariamo Ma che cazzo sta dicendole? Ti cacca su Tutto Lo sapea che non ho mai affidato ai te E fai la fine Però la roba la vuoi Non ti preoccupare Tu li spada ma guardare?